Ho paura che il premio non sia stato dato tanto per i contenuti quanto per la forma, che spero vi caccia, ma anche i contenuti forse hanno il loro merito. Ad ogni modo, voi toccate un punto relativamente dedicato, la definizione di algoritmo. Io non posso ricitarvi quello che si impara all'università, perché semplicemente è vero, è coerente, che ha oltrepassato il value della critica. Nel corso di logica matematica che ho seguito tanto tempo fa, ci diceva che l'algoritmo è una procedura interamente formalizzata, nella quale si ha un insieme di comandi che devono essere completamente ordinati e dove non deve rimanere nessun caso imprevisto. Quando tutte le altre condizioni sono soddisfatte, o c'è qualche caso imprevisto, si può parlare talvolta di semi-algoritmi e ce ne sono altresimili. Quindi, come vedete, è una definizione amplissima e questo spiega che gli algoritmi si trovino d'apertura.